E ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo episodio di Minecraft Ita Oggi andremo a fare qualcosa di leggermente particolare Pertanto invito come sempre a lasciare un pollice in su Cerchiamo di superare i 2439 like per questo video Naturalmente invito anche a condividere questo video con tutti i vostri amici E ad iscrivervi al canale se ancora non vi siete iscritti Naturalmente attivando la campanellina per ricevere tutte le mie notifiche E allora ragazzi detto questo possiamo iniziare subito Ok ragazzi eccoci qui ci troviamo all'interno del nostro magazzino automatico Perché volevo un attimo smistare gli ultimi oggetti rimanenti dallo scorso episodio Quindi mettiamo questa lana a smistare e andiamo a mettere dentro l'Emerald Box Le nostre accessoie visto che per ora non ci serviranno più Dentro la Build Box raga andremo a mettere invece gli oggetti che ci serviranno oggi Ma cosa andremo a fare? Andremo a fare un pozzo dei desideri Vedere tutto durante il corso dell'episodio secondo me uscirà una cosa veramente carinissima E anche abbastanza divertente Allora per prima cosa ci serve del legno E secondo me dovremmo prendere lo spruce wood Non perché sono favorevole sempre allo spruce wood Ma perché comunque andremo a fare questo pozzo dei desideri in un punto dove è pieno di spruce wood Quindi ci sto Seconda cosa ci servirebbero anche vediamo puntino delle stairs di spruce wood Le andiamo di nuovo a prendere Prendiamo 48 bastano e avanzano ragazzi Servono dei cobblestone wall Ne servono penso 6 Ne prendiamo 6 no intanto Ci servono ora ragazzi anche degli stone brick Quindi ne prendiamo 64 E questi 44 Volevo provare a trasformarli con le vines In modo che diventano degli stone brick con la mossi sopra Quindi con le liane diciamo E soltanto che le liane che ce le ho tutte Ce le ho top Quindi facciamo così e così E sbam Crafterino Tattichino Facciamo lo spruce fence gate che ci serviva dall'inizio Ok il resto non ci serve più Oh mio dio ragazzi è giorno Vabbè perché ormai il video l'ho iniziato Quindi sicuramente se adesso è giorno Quando l'inizio era notte Ma lo trovate in mente si Allora ragazzi questo pozzo Volevo andarlo a fare io più o meno Qui Diciamo sopra questa collinetta qua In mezzo agli alberelli Al massimo andiamo a levare questo alberello qui Ed è per questo qui che ho preso comunque poco legno di spruce Perché anche adesso ne andiamo ad abbattere un paio Quindi alla fine Proprio il legno non è un problema per questa piccola struttura Comunque si faremo noi adesso la struttura Del pozzo di desideri E faremo dopo anche il sistema in redstone Per il sistema in redstone poi torneremo a casa A prendere tutti gli oggetti che ci serviranno Ora ragazzi prendo un attimo la pala E voglio spianare questa piccola montagnetta In modo che diventa più grande Tipo così Raga è veramente perfetta Si farà che tipo si sale più o meno da questa zona E qui noi andiamo a mettere appunto Il pozzo dei desideri Però mi sa che quest'albero dobbiamo pure Levarlo quindi l'altro lo andiamo ad abbattere Nel massimo ne ripienteremo un paio dopo Perfetto Piazziamo qui la nostra beatbox E prendiamo subito gli oggetti che ci servono all'inizio Ci servono gli stone brick slab Le stairs I stone brick comunque Le mossi cobblestone E ci serve anche i cobblestone wall Allora Incominciamo subito Noi vogliamo farlo più o meno Più o meno c'è lo spazio Si direi che qui è un ottimo punto per iniziare Quindi facciamo così Mettiamo poi ad esempio Stone brick e lo stone brick Quello mossi Contiamo tre blocchi Quindi uno, due, tre Allora il buco deve essere di tre Quindi intanto facciamo un buco Così abbiamo già la forma da seguire Ok quindi vi ho detto Boh facciamo tipo così e così Prendiamo questo Poi mettiamo le slabine qua Questo così Questo pure qua E questo così Ora facciamo più o meno il contorno Quindi così e così E così e così A posto Sopra andiamo a mettere i brick mossi Questi qua E il contorno lo andiamo a fare anche qui E naturalmente anche dall'altra parte Perché comunque è tutto speculare raga Quindi è semplicissimo Cercherò di farlo nel modo più semplice possibile Anche per voi per capirlo Ora sopra questi brick mossi O come cacchio si chiamano insomma Mettiamo questi qua E già ragazzi la prima parte è così fatta Mettiamo ora una slab qua Una slabina qui E la stessa cosa anche da quest'altra parte Slab e slab Perfetto Questo qua sarà più o meno la base Del nostro pozzo Già come vedete È abbastanza carino Allora adesso Dovevo prendere Le fence Lo spruce wood naturalmente Il gate E cobblestone stairs Insomma tutto il resto raga Dovevo prendere tutto il resto ecco Quindi prendiamo tutto il resto E facciamo I pilastri Del Del pozzo Quindi facciamo così Prendiamo ora le fence E mettiamo una qua Una qui Qui no perché sennò verrebbe poi Troppo brutto a mio parere Stessa cosa da quest'altra parte Quindi così 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 E facciamo Ok così dovrebbe andare bene E mettiamo naturalmente Di nuovo Le fence Visto che sta facendo notte Torniamo Raga subito A casa Prima che Schioppiamo E good night Andiamo a dormire Come sempre Nei nostri episodi Non c'è n'episodio Non vado a dormire Quindi io con la 1.13 Raga Non avrò problema con i phantom Perché dormo sempre Nella mia vanilla Soprattutto ragazzi Volevo fare il prossimo episodio Quello che uscirà lunedì Un piccolo episodio particolare Dove Andremo a testare La preversione Della 1.13 Su questo mondo E vediamo che succede Se si sminchia tutto Oppure no E Spero che non si sminchi nulla Sento qualcuno che brucia Mi fa piacere Per lui Per questo zombie cattivo E ritorniamo Di nuovo al nostro Pozzo Bellissimo Allora Adesso Prima di continuare a lavorare Dobbiamo mangiare Perché non possiamo lavorare Se non abbiamo energie E quindi soprattutto Se il nostro personaggio Non ha energie Lavora male A parte che è già il mio Un pochettino così Quindi già il mio Lavora male di suo E mettiamo fence Un'altra fence Insomma Devo fare le altre due Ragazzi Prendiamo di nuovo Lo spruce wood Stairs No non è uno stair Vabbè Dobbiamo cercare ragazzi Di metterlo in un modo Un pochettino particolare Quindi mi faccio un attimo Una scaletta così E ecco Ora ragazzi Guardatevi Preparatevi Allo scler E lo sapevo Ok Perfetto Ho dovuto fare un macello Per mettere sto cacchio di blocco Spacchiamo qui Ecco Siamo di nuovo Ricaduti dentro Vabbè Pazienza Facciamo così E spacchiamo di nuovo Questi qua Che non servono adesso Ora naturalmente raga Dobbiamo continuare Questo tronco Al centro Che non è altro che diciamo La parte centrale del pozzo Dove ci sarebbe attorcigliato il filo Diciamo Del secchio Perché andremo a fare anche il secchio Secchio che in realtà ancora non l'ho fatto Comunque facciamo così Ora già che ci siamo Piazziamo questo blocco Tipo qua Prendiamo Questo E lo piazziamo Non era questo Sbagliato Il gate E lo piazziamo così Questo qui Ora si può andare a levare E possiamo piazzare Dove c'è il gate Delle fence Che fanno più o meno così Come se fosse il coso Per Da girare Per Appunto salire O far scendere Il secchio D'acqua Bene raga Adesso saremo Di altri due blocchi E facciamo due blocchi Per di qua Due blocchi per di qua E la stessa cosa Anche dall'altra parte Bene Proprio adesso raga Ci saremo le scalette Di cobblestone Che devono Essere messe Come si deve Non così Ora abbiamo finito Con i log di legno E adesso iniziamo Con le scalette A sclerare Scalette Scle No lasciamo stare Questa cosa Perfetto Finito anche dall'altro lato Adesso se facciamo Dove c'è qua la scaletta E dobbiamo mettere Una al contrario Una sopra E una al contrario Dobbiamo fare proprio Diciamo Una cosa particolare Tipo un tetto Ecco C'è in realtà Stiamo facendo il tetto Del pozzo Però vabbè Avete capito Ok Finisce così E stessa cosa Da quest'altro lato Quindi al contrario Dritto E di nuovo Al contrario Al contrario Dritto E di nuovo Al contrario Mettiamo poi Dritto E di nuovo Dritto per di qua E di nuovo Dritto E dritto per di qua Ora prendiamo un attimo Ragazzi Un blocco di cobblestone Lo piazziamo qua E mettiamo la scaletta Al contrario qua Perfetto Stessa identica cosa Adesso dall'altra parte Ragazzi stiamo quasi Per finire La struttura Del nostro Pozzo Adesso non devo fare Altro che Piazzare Le stairs Quindi le scalette Di spruce Tutte così Messe E ragazzi Abbiamo praticamente Finito Mancano soltanto Due piccoli dettagli Che aggiungeremo Subito Quindi non vi preoccupate Ma praticamente Abbiamo quasi Finito La struttura Del pozzo Poi manca La parte In redstone E un'altra slab Qua Perfetto raga Possiamo scendere Aia Leviamo tutti questi blocchi Che in realtà Non servono a nulla Ciao maialino Tu mi dispiessi Ma farei una brutta fine Chissà proprio di sì Se finire in un posto Veramente brutto Abbiamo anche delle torce Che piazziamo subito Tipo qua E qua Per fare luce Poi Prendiamo Vediamo un attimo Di fare gli ultimi dettagli Possiamo questi qua Servono due di queste E per così Andiamo a fare noi La parte Diciamo Della fune Del filo Che deve tenere Il secchiello Secchiello Che non l'ho fatto Perché sono stupido Raga Il pozzo Di per sé È finito Manca soltanto Il secchiello Guardate quanto è carino Veramente bellissimo Ora andiamo a casa Prendo Tutte le cose In redstone E ritorno qui E facciamo la parte In redstone Dove Avverrà la vera Magia del pozzo magico O del pozzo dei desideri Comunque Ok ragazzi Eccoci Ho preso più o meno Tutto l'occorrente Credo di avere Tutto quanto Allora Raga È quello di mettere Il calderone Quindi Facciamo così Mettiamo qua Il calderone Come Come se fosse Un secchiello E dentro Dovremmo andare a mettere Noi L'acqua Ma io ho preso Due secchi d'acqua Anche per fare L'acqua all'interno Quindi cosa Dobbiamo andare a fare Facciamo velocemente Qui Di nascosto Diciamo Una piccola fonte Di acqua Infinita Perfetto Abbiamo fatto ragazzi Secchiello Con l'acqua dentro Ora passiamo subito Dalla parte In redstone Per ora Prendiamo questi oggetti Prendiamo qui La crafting E facciamo Una chest Perché ragazzi Servirà una chest Scendiamo Adesso Più o meno Qua sotto Tutto un maialino Però deve andare via Di qua Perché sennò Farà veramente Una butta fine Scaviamo leggermente Più sotto qua Di un blocco E mettiamo La chest qui Un hopper qua Un altro hopper Sopra Questo qui Poi ve lo spiegherò Dopo perché Tu maialino Senti Vabbè Diventerai Tanta carne Ciao E mettiamo tutti I vari hopper In modo che Fanno passare Poi l'oggetto Andremo a gettare Dentro il pozzo Là dentro Perfetto Usciamo da qui E noi volendo qua Possiamo pure Già tappare Ora cosa facciamo Andiamo qua sotto Raga Qua spacchiamo Facciamo una piccola Piattaforma Qui prendiamo Il repeater La redstone torch E il comperator Prendiamo un repeater Lo andiamo a mettere Praticamente Tipo Così Ok Che ora che ci penso In realtà la chest la possiamo fare Anche uno più sopra Così direttamente Mettiamo un blocco Di cobblestone qua Poi il comperator Un altro blocco Di Vabbè Ho la stone Vabbè Mettiamo la stone Redstone torch Mettiamo qua tra tutta la stone E con la redstone Andiamo A fare Così In questo modo Quando un oggetto Passerà Dentro Si spegne Questo qui si accende E spegne il circuito E quindi dovrebbe funzionare Tutto quanto Vediamo un attimo Se è come ho detto io Yes Funziona Ora Cosa facciamo Da questa torcia Noi dobbiamo fare Un percorso in redstone Che sale Verso l'alto Quindi noi volendo Possiamo andare dietro Da qui Anche qua sotto Così Prendiamo Questo qua E incominciamo ragazzi A salire Per salire più velocemente Possiamo fare Quel trucchetto Con le slab Però ora dobbiamo fare una cosa Ci serve Il nostro dispenser Che dobbiamo metterlo Verso l'alto Qui Così In questo modo E ci serve poi Un observer Perfetto Adesso facciamo Arrivare Anzi no raga Possiamo fare anche direttamente Una cosa Questo qui Andiamo a levare Prendiamo questa La mettiamo qua Vediamo se funziona Yes Perfetto ragazzi Funziona Ok ragazzi Ho fatto la prova E funziona Praticamente Tutto quanto Quindi mettete Adesso qua Una torcia Per evitare che Spawni il mob E tappiamo Ora tutto Quindi Ritappiamo Anche con la dirty In modo che Mentre andiamo a dormire Qua si va a sistemare Tutto quanto Spacchiamo questa Spacchiamo questa Spacchiamo la nostra crafting E raga Si ritorna Di nuovo A dormire Ok ragazzi Eccoci qui Ho anche riempito Il nostro pozzo Con l'acqua Guardate quanto è bello Cioè È bellissimo raga Mi piace veramente Un casino E adesso Vediamo Se funziona Il nostro pozzo Dei desideri Quindi Trasformiamo Questo lingotto In oro In nove pivite d'oro E spieghiamo Un desiderio Quindi ad esempio Voglio avere Dei diamanti Droppiamo la monetina E speriamo Diamanti Oh Eccoli qua ragazzi Il pozzo Dei desideri Ha realizzato Appunto il nostro desiderio Ma io voglio ancora Diamanti Quindi vai Dammi ancora Altri diamanti Forza Oh si Altri Quattro Oh Quattro diamanti Perfetto ragazzi Come vedete Il nostro pozzo Dei desideri Funziona Veramente E soprattutto Funziona Alla perfezione Quindi ragazzi Fatto questo Io direi che Questo episodio Della vanilla Può anche Finire qui Quindi ragazzi Questo episodio Della vanilla Finisce qui Spero vi sia piaciuto Sì Fatemi un po' C'è in su Un commento qua sotto Vi ricordo di passare In descrizione Perché lì sono Tutti nei miei social Come instagram E telegram Mi raccomando Seguitevi su entrambi E se ancora vi siete iscritti Al canale Vi invito ad iscrivervi Volendo per iscrivervi Al canale Basta cliccate Alla ruota Che sta qui sotto lo schermo E se ce l'avete fatto Potete cliccare Assista adesso Vedere un ottimo video Noi ragazzi